L'anima L'anima spinge il cuore che batte sempre più forte come un continuo rincorrersi di sensazioni, paure, dubbi. Il cuore partecipa con i suoi palpiti alle nostre angosce quotidiane. La mente rifugge i pensieri sempre gli stessi che la rendono insicura. L'anima spinge da dentro e sovrasta la mente e chiede al cuore di placare i suoi battiti. L'anima, con una dolce melodia, invita la mente ed il cuore all'amore. Amare è l'antidoto L'anima ama Io amo